L'associazione Volontà di Vivere è impegnata da più di 40 anni in cancro dei pazienti oncologici ascolto, accoglienza e sostegno sono le parole che caratterizzano l'operato di noi volontari il lavoro dei professionisti per il supporto fisico e psicologico di chi ne ha più bisogno nell'ultimo anno siamo riusciti a garantire i nostri servizi malgrado la restrizione dopo tutta la pandemia con il tuo 5x1000 puoi dare continuità al nostro impegno e contribuire ad aiutare sempre più persone e soprattutto le più fragili Grazie a tutti i nostri servizi Grazie a tutti i nostri servizi